Benvenuti da FT Online a questo servizio speciale sul mondo degli ETF, che cosa guarderemo in questo appuntamento? Ci occuperemo di quelli che sono stati gli ETF migliori nel 2019, tra quelli più liquidi quotati a piazza affari, guarderemo anche l'analisi grafica degli strumenti più interessanti, oltre ad approfondire quello che è il nuovo servizio di FT Online relativo proprio al mondo degli ETF, ma iniziamo per chi avesse ancora dei dubbi su che cos'è questo strumento, guardando la pagina di formazione sul sito di Borsa Italiana relativa proprio agli ETF, dove ci dice che l'ETF è l'acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondo di investimento o SICAV con due principali caratteristiche, che sono quelle di essere negoziato in borsa come un'azione e di avere come unico l'obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce, ovvero il benchmark, attraverso una gestione totalmente passiva. Ovviamente poi ci sono degli aspetti di fiscalità e di tecnici di negoziazione che vanno approfonditi, però sostanzialmente la cosa che deve essere tenuta in mente è che chi è abituato ad operare quelle azioni nel passaggio all'operatività con gli ETF non troverà sicuramente delle particolari difficoltà, perché andare a strutturare un servizio di analisi sugli ETF è il motivo molto semplice, nel corso degli ultimi mesi del 2019 abbiamo visto una impennata decisa delle quotazioni dei mercati azionari, proprio negli ultimi giorni, però ci sono delle novità soprattutto sul fronte delle tensioni geopolitiche che fanno temere un inizio di anno di 2020 più tormentato di quello che è stato alla fine del 2019, quindi l'idea di poter fare riferimento a strumenti di tipo diverso rispetto alle singole azioni o agli indici azionali che siamo abituati a trattare, forse è in questo momento un approccio magari conservativo, ma sicuramente saggio. Che cosa ci aspettiamo dall'immediato futuro? Lo vediamo nella pagina relativa al servizio che Financial Terminalis ha immaginato per aiutare gli investitori che vogliono approcciare questo mercato, nella pagina relativa al servizio asset allocation portafoglio ETF, abbiamo una prima parte che è relativa all'ipotesi di allocazione delle risorse che viene strutturata mensilmente, dove viene fornita una indicazione di quello che è l'allocazione ideale tra materie prime, mercato obbligazionario e azionario, vedete questa è la pagina redatta il primo di gennaio, quindi con l'anno nuovo, per adesso il peso preponderante è ancora sulle azioni per il 41% circa, per il 33% sulle materie prime e per il 25% solo sull'obbligazionario, poi ciascuna asset class viene suddivisa sotto insiemi, vedete nel caso dell'obbligazionario ad esempio ci sono i titoli USA a alto rendimento, i titoli USA del tesoro fino a 10 anni, fino a 3 anni e poi gli analoghi titoli del mercato europeo, in questo momento i titoli a alto rendimento del mercato americano sono quelli che hanno il peso maggiore, per quello che riguarda il mercato azionario, vedete Cina e Brics, ovvero sia i paesi emergenti sono quelli che sono apparentemente i più presenti, ma se andiamo a fare la somma di USA Nasdaq e USA S&P 500, vedete il totale di questi due indici che sono i principali indici del mercato azionario americano, supera di gran lunga ad esempio la presenza dell'indice della Cina nell'ambito dell'allocazione azionaria. Per quello che riguarda poi le materie prime, vediamo che il rame, il crude oil, quindi il petrolio sono i due strumenti più rappresentati, in questo momento ovviamente la forza del rame, del petrolio, ma anche in qualche modo dell'oro, riflette sia come abbiamo detto l'aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche il fatto che grazie alla prossima firma della fase 1 dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina ci si aspetta un rientro delle tensioni sul fronte commerciale, quindi una maggiore possibilità di crescita a livello globale nel corso dei prossimi mesi e le materie prime sembrano riflettere questa prospettiva. Nel nostro servizio poi oltre alla asset allocation mensile ci sono anche delle tabelle settimanali che riguardano l'andamento dei 100 ETF più liquidi, quindi quelli che probabilmente ha maggior senso guardare con continuità sul mercato italiano, vedete questa è la tabella ad esempio che riporta la valutazione sulla tendenza dei 100 strumenti più liquidi, per ogni strumento viene riportato ovviamente il codice di riferimento di modo che sia possibile andare a identificarlo in maniera univoca, sulla piattaforma operativa per poi magari scegliere se comprarlo o venderlo e ovviamente questo è un primo punto di approdo per decidere come strutturare la propria operatività, oltre a questo però abbiamo scelto 21 strumenti, quindi 21 ETF tra le principali aree geografiche che sono poi suddivise in azioni bond e materie prime, che tutte le settimane vengono valutati e vengono inseriti nel portafoglio con un peso che può rimanere lo stesso o può variare in modo che rispecchi le prospettive di andamento del trend. Questa è la tabella riassuntiva di tutti i 21 strumenti, poi ci sono delle tabelle invece che riguardano le 3 asset class principali, quindi azionario, obbligazionario e materie prime, per ciascuna asset class è stato creato un sottoportafoglio e di ogni portafoglio abbiamo tutta una serie di informazioni, il peso di ciascuno strumento nell'ambito del portafoglio, la quantità di ETF da detenere per rispecchiare il peso che viene detenuto, la rischiosità del portafoglio sia in termini di volatilità sia in termini di non rischio, ovvero sia di una misura di VAR che ci dà un'idea di quello che è il rischio nella detenzione di questi strumenti e ovviamente anche una valutazione di performance, questa tabella è stata rivalutata con la chiusura del 3 gennaio dopo che il riferimento veniva indicato e rimarrà per tutto l'anno, quello del 31-12 del 2019, quindi per adesso la variazione sul mercato azionario nella prima settimana è stata lo 0,34% del portafoglio, sostanzialmente stabile il portafoglio obbligazionario 0,43% invece è quello relativo alle materie prime, di ciascuno portafoglio poi viene riportato il peso rispetto al totale, quindi quanto ad esempio l'azionario pesi sul portafoglio globale, quello composto da 21 strumenti, in questo momento è il 33% per l'azionario, il 37% per l'obbligazionario e il 30% per le materie prime, ovviamente questa allocazione settimanale si può discostare, anzi si discosta, è normale che lo sia, rispetto a quella mensile che invece è dedicata a chi fa un investimento di più ampio respiro. Abbiamo quindi questo servizio sul quale si innestano le considerazioni che volevo fare a questo punto relative all'andamento degli ETF nel corso 2019 e nella prima parte di quest'anno, partiamo con la situazione rassuntiva dei migliori ETF nel 2019, vi descrivo rapidamente come siamo arrivati a questa tabella, vi anticipo che tutte queste informazioni le trovate poi anche sul sito FTA online nella nostra home page, vedete c'è un articolo che ho pubblicato recentemente dove si fa riferimento nella sezione editoriali a quelli che sono gli ETF migliori nel 2019, quindi ritrovate le stesse tabelle che vi sto descrivendo adesso nel video, in modo che sia possibile analizzarle con calma, magari anche andando a guardare in dettaglio quelle che sono le informazioni che adesso stiamo guardando insieme. In pratica dai 1300 strumenti circa che sono quotati sul mercato italiano, ho scelto quelli che sono i 100 più liquidi, ovvero che sono stati quelli più scambiati nelle ultime settimane e quindi sono quelli che maggiormente incontrano l'interesse degli investitori e li ho organizzati secondo tre criteri, in questa prima tabella abbiamo un'organizzazione in termini di rendimento decrescente, quindi come si sono comportati in termini di performance nelle ultime 52 settimane, perciò è nell'intero 2019 e ovviamente abbiamo una lista di strumenti che ha avuto un rendimento estremamente interessante, come ad esempio l'ETF leverageggiato sul Nasdaq 100 di Winston 3, vedete la quasi totalità dei 100 strumenti analizzati ha avuto nel 2019 un rendimento positivo, sono pochissimi quelli che hanno avuto un rendimento negativo, a parte quelli relativi al gas natural e al petrolio in configurazione short, quindi che hanno una posizione di vendita sullo strumento, gli altri hanno tutti un andamento positivo o molto positivo, quindi il 2019 non è una novità, è stato un anno estremamente interessante per gli investimenti in tutte le direzioni, quindi nelle asset class principali. La seconda organizzazione che ho fatto di queste informazioni è in termini di rischio, quindi non più in termini di rendimento, ma in termini di rischiosità statistica e ho organizzato la tabella in ordine decrescente di volatilità a 6 mesi, volatilità storica sapete che è una misura di rischio dell'oscillazione del strumento e a volte può essere interessante magari andare a guardare nell'ambito soprattutto della costruzione di un portafoglio, non solo quali sono gli strumenti che rendono di più, ma anche quelli che sono i più rischiosi per eventualmente valutare se c'è l'opportunità di inserirli nel proprio portafoglio o se magari si possono trovare delle alternative che hanno una prospettiva di andamento simile, ma con una rischiosità statistica diversa. Per facilitare questo ultimo compito ho creato anche una terza lista di quelli che sono gli strumenti maggiormente interessanti in termini di rendimento pesato per il rischio, quindi teniamo come punto di riferimento più interessante quello che è stato la capacità di muoversi al rialzo nel corso dell'anno da parte di questi 100 ETF, ma al tempo stesso introduciamo anche il concetto di pesare questa capacità di apprezzarsi per la rischiosità in modo da ottenere quelli che sono gli strumenti che probabilmente da un punto di vista pratico hanno poi la pil migliore per essere inseriti nell'ambito in un portafoglio. Tra questi ho scelto i 10 che avevano al 31-12 del 2019 il quadro grafico migliore, in realtà qualcuno l'ho escluso perché alcuni si ripetevano con una certa costanza, ad esempio vedete che nella lista dei migliori l'indice S&P 500 compare più volte da parte di emittenti diversi, quindi ne ho scelti solo alcuni che mi sembravano più significativi e che in termini di rendimento rischio hanno però in ogni caso tutti una valutazione abbastanza simile. La situazione riassuntiva l'ho trovata in questa pagina dove ho riportato i migliori sia in termini di rendimento assoluto, sia in termini di minore rischiosità e in termini di rendimento pesato per il rischio, che sono poi gli strumenti che andremo adesso a guardare in dettaglio. Vi ricordo sempre che per ciascuno strumento che viene indicato è riportato anche il codice identificativo, vi faccio notare che nella tabella rendimento assoluto e nella tabella rendimento rischio compaiono due strumenti che sono comuni il Wisdom 3 Nasdaq 100 Leverage e il DBSP 500 della Ilfrackers che sono stati capaci di generare una ottima performance anche se pesata in termini di rischiosità. Vi stavo dicendo che per ciascuno strumento viene riportato l'identificativo univoco, ad esempio qui abbiamo per il Wisdom 3 Nasdaq 100 Leverage il codice QQQ3, se andiamo sul nostro motore di ricerca a cercare QQQ3 vedete che potete apportare tranquillamente nella pagina di Borsa Italiana dove trovate tutte le caratteristiche relative allo strumento che stiamo guardando, in questo caso si tratta di uno strumento che ha come benchmark il Nasdaq, l'indice Nasdaq 100 per 3 quindi con leva a 3 e la sua valutazione di denominazione è in dollari, quindi non è in Euro ma è uno strumento denominato in dollari, quindi in ogni caso tutte le informazioni più importanti sono riportate nelle pagine di Borsa Italiana, ma passiamo adesso all'analisi dei singoli strumenti, come vi ho detto ne ho scelti 10 e iniziamo proprio con quello che abbiamo appena visto che è l'indice Nasdaq Leverage A3 che ha come codice l'identificativo QQQ3, per ciascuno strumento ho utilizzato degli indicatori di analisi comuni, la media mobile esponenziale a 100 giorni, un indicatore di volatilità storica in questo caso calcolato a 30 sedute e l'indicazione della performance annuale, quindi il press rock a 252 sedute che ci dice quanto è stato in grado di apprezzarsi lo strumento nel corso dell'ultimo anno, in questo caso ad esempio l'ETF ha ottenuto una performance del 156% circa, la volatilità in questo momento è abbastanza bassa, è intorno al 35%, bassa ovviamente in termini di comportamento storico da parte di questo strumento, c'è la possibilità che la volatilità possa mettere a segno un rimbalzo di norma quando questo succede, se la volatilità sale sappiamo che i prezzi tendono a scendere, questa ipotesi viene confermata anche dal fatto che le quotazioni sono abbastanza lontane in questo momento dalla media mobile esponenziale a 100 giorni, se calcoliamo la distanza tra la media e i prezzi che più o meno è data da questa linea verticale e andiamo nel recente passato a vedere se ci sono stati degli altri momenti in cui c'era questa distanza simile a quella attuale, la situazione simile all'attuale si era riproposta nel mese d'aprile prima che si avviasse questa fase di correzione, quindi la distanza tra la media e i prezzi possiamo leggerla un po' come se fosse una situazione di ipercomprato o nel caso ovviamente che la distanza non sia positiva ma negativa, ipervenduto, in questo caso sembrerebbe essere in presenza di una situazione di ipercomprato, è evidente che c'è una forte resistenza orizzontale data dal test di quest'area 1.750 che si è ripetuto più volte nel corso delle ultime sedute, fino a che questa resistenza non sarà alle spalle, il rischio di una flessione verso la media mobile esponenziale a 100 giorni sembrerebbe esserci, quindi la tendenza di fondo su questo ETF che forse è quello più interessante per chi vuole scommettere al rialzo dei mercati azionari resta positiva, però c'è il rischio in questa fase effettivamente di un periodo di assestamento se non addirittura appunto di una correzione a ribasso, in generale quindi sembrerebbe questa analisi confermare l'idea che per il momento è opportuno essere prudenti sul mercato azionario, andremo a vedere se poi l'analisi degli altri strumenti simili ci confermerà questa idea, andiamo quindi a cercare magari altri strumenti relativi al azionario americano, vediamo qui che c'è l'ETF relativo all'andamento del S&P 500, il benchmark in questo caso è un S&P 500 total return, vedete le considerazioni che abbiamo fatto sul Nasdaq leverage che possiamo applicare anche qui, siamo con una performance annuale del 36,6% che rispecchia poi ovviamente quella che è stata la performance dell'indice più i dividendi che sono stati pagati nel corso dell'anno, anche in questo caso la volatilità storica è relativamente bassa, ha toccato dei minimi anche più bassi recentemente, vedete cos'era successo nella prima parte del medio dicembre, la volatilità era molto bassa e rimbalzata, con il rimbalzo di volatilità quando la volatilità storica sale molto spesso i prezzi tendono a scendere, quindi anche in questo caso se dovesse proseguire questa fase di rialzo potrebbe esserci l'avvio di una fase di ripiegamento sul grafico dei prezzi, andiamo qui ancora una volta a calcolare la distanza tramite immobile esponenziali a 100 giorni e il grafico, vedete siamo in una situazione di distanza simile a quella che avevamo avuto nel corso dell'estate, qui nel corso del mese di luglio, anzi la fase di flessione era iniziata anche con una distanza tra media e prezzi leggermente inferiore a quella attuale, ma sostanzialmente se torniamo indietro nel tempo, vedete aprile ha successo la stessa cosa, siamo in una fase in cui in passato con questa distanza tra i prezzi della media si è sempre verificata un ripiegamento, quanto potrebbe essere grave il ripiegamento? Diciamo che fino a che ci manterremo al di sopra della media che coincide in questa fase con la linea di tendenza che sarà dai minimi di dicembre, quindi fino a che saremo al di sopra di area 50 e 21, la tendenza di fondo rimarrà orientata a rialzo e eventuali fasi di ripiegamento saranno da considerare come occasione di ingresso per future fasi di crescita. Vi ricordo sempre che potete andare a guardare in dettaglio di che strumento stiamo parlando, semplicemente facendo riferimento al codice, in questo caso A500, vi faccio vedere come sia semplice andare a recuperare le informazioni, abbiamo che A500 fa riferimento all'ETF Amundi S&P 500, il cui benchmark come vi ho detto è l'S&P 500 total return in dollari. Passiamo adesso all'ETF relativo al MSC in dollari, quindi l'indice Morgan Stanley relativo alla borsa USA, anche in questo caso è un indice total return. Siamo ancora una volta in una situazione di tensione, se andiamo a calcolare l'RSI a 14 sedute, quindi il classico indicatatore che ci dà una percezione di quello che è l'andamento della forza del trend, ha toccato recentemente l'ipercomprato, poi se ne è allontanato, diciamo che nonostante sia già ridisceso in posibilità della zona neutrale, A sta segnalando sicuramente che c'è una certa difficoltà nel proseguire la fase di alzista. L'ETF come vedete è sui massimi storici e se prendiamo come riferimento i minimi del 2016 e tracciamo un canale da quei minimi, abbiamo già superato abbondantemente il lato alto del canale, quindi il target prospettico che possiamo immaginare è raggiungibile dato dalla proiezione dell'ampiezza del canale verso l'alto con la linea parallela del raddoppio del canale che ci dà un target intorno all'area 87,50, c'è però il rischio che nell'immediato futuro ci sia una fase di ritorno verso il vecchio limite superiore del canale, quindi se le quotazioni dovessero scendere al di sotto ad esempio della media morbida esponenziale a 10 sedute, avremmo già una prima indicazione di potenziale debolezza per quello che riguarda il breve termine, vedete come i prezzi hanno toccato a più riprese nel corso delle ultime giornate proprio questa media. Pertanto siamo in una situazione di attesa per vedere se effettivamente ci sarà l'avvio di una fase di ripiegamento verso questo importante aerosupporto o se invece i prezzi decideranno di muoversi subito a rialzo per andare a intercettare il target che come abbiamo visto intorno all'area 87,87,50. Abbiamo come altri riferimenti per quello che riguarda il mercato azionario, ancora una volta uno strumento che fa riferimento all'SMP500, anche qui niente di nuovo, questo qui è relativo all'emittente Elixor. La differenza di performance, vedete quale può essere la differenza tra uno strumento e un altro, nel caso dell'Xor ad esempio la performance nel 2019 è stata del 34%, l'ETF che stavamo guardando prima aveva un 36,6%, però diciamo che su variazioni di prezzo così significative, tutto sommato questa differenza può essere considerata trascurabile. L'andamento grafico ovviamente è simile, visto che il benchmark di riferimento è lo stesso, abbiamo detto che gli ETF non fanno altro che riproporre in modo passivo l'andamento del benchmark di riferimento, il supporto critico in questo caso è posizionato intorno all'area 28,22 e siamo ancora una volta anche in questo caso sui massimi storici e quindi in caso di superamento del massimo che era stato toccato a fine dicembre a 29,75 potremmo avere una ulteriore scalata verso il lato alto di questo canale che passa intorno a 31,60, quindi più o meno tutti gli ETF che fanno riferimento al S&P 500 ovviamente ci danno indicazioni abbastanza simili. Guardiamo in alternativa uno strumento relativo all'MSC World, quindi indice della Borsa Mondiale, in questo caso però l'MSC World con titoli minimum volatility in versione total return, quindi vedete ha un andamento meno fastagliato per quello che riguarda l'ultimo periodo oppure sempre essendo sui massimi storici. la flessione che si è vista nel corso delle ultime sedute è stata sostanzialmente originata e derivata dalla mancata rottura dei massimi del mese di ottobre, il tentativo di superamento di quei livelli è stato messo a segno più volte, ma non c'è stata una vera e propria rottura della resistenza, quindi siamo su questa resistenza tra 47 e 47,50, se i prezzi dovessero scendere sotto la media mobile esponenziale a 100 giorni a 46 circa ci potrebbe essere il rischio di una fase di ripiegamento, ma ancora una volta se andiamo a guardare la storia pregressa dello strumento ci accorgiamo che la tendenza di fondo difficilmente verrà messa in discussione e che più probabilmente tra i 45,50 e 46 punti ci potrebbe essere un tentativo di andare a riprendere la tendenza crescente, c'è anche uno strumento relativo al mercato europeo tra quelli che abbiamo selezionato che è questo relativo all'Eurostock 50, nel corso dell'anno che è uno strumento che funziona a leva ha ottenuto una performance del 68%, circa il doppio di quella dell'indice, siamo ancora una volta in una situazione di massimi pluriannali, quindi la tendenza di fondo è estremamente positiva, nel corso del recente passato c'è stata la rottura di questa importante resistenza di area 30, attualmente lo strumento è abbastanza distante dalla propria media 100 giorni, se guardiamo ancora una volta se andiamo a calcolare la distanza tra i prezzi e la media ci accorgiamo che siamo in una situazione di ipercomprato, vedete quando avevamo avuto una situazione simile nel corso del mese di luglio, ma anche nel corso del mese di aprile eravamo poi andati incontro a una flessione, però vi faccio notare come entrambe le volte la flessione sia stata solo marginale nel correggere il movimento di rialzo che c'era stato precedentemente, se andiamo a prendere il rialzo tra i minimi di dicembre 2018 e i massimi di luglio e poi calcoliamo i tracciamenti, vedete il mercato si è limitato a ritracciare il 38,2% circa, quindi niente di drammatico, se dovesse accadere la stessa cosa adesso in relazione alla seconda fase rialzista che abbiamo visto tra agosto e l'inizio dell'anno in corso, vedete il 38,2% ci riporterebbe più o meno dove è in transito in questo momento la media mobile è esponenziale a 100 giorni, quindi in caso di segnali di debolezza sotto 31,50, probabilmente già a 29,50 potremmo vedere l'ETF che si ferma per poi cercare nuovamente di rimbalzare. Spostiamo adesso il nostro interesse su uno strumento di tipo diverso, guardiamo i bond, in questo caso i corporate bond relativi al mercato europeo, nel corso degli ultimi mesi c'è stato un sostanziale appiattimento, la performance nel corso dell'anno è stata ovviamente trattandosi di bond e non particolarmente significativa, questa fase laterale però potrebbe lasciare spazio se i prezzi dovessero riuscire a ritornare di superare a 140,50,141, potrebbe lasciare spazio alla ripresa del trend rialzista, quindi si tratta di uno strumento che ha una volatilità come vedete estremamente ridotta, solo del 2,5%, che è circa un decimo rispetto a quella che abbiamo visto sugli strumenti più volatili come sono gli ETF leverage, ad esempio se andiamo a riprendere il nostro Eurostox 50, vedete ha una volatilità del 24% circa, quindi appunto 10 volte più o meno rispetto a quella dei corporate bond, è evidente che a fronte di una minore volatilità c'è anche un minore rendimento, perché abbiamo visto che nel corso dell'anno la performance si è limitata al 5-4% circa, comunque è uno strumento questo che va tenuto presente, soprattutto nel caso il mercato avesse intenzione di andare in conto alla fase correttiva per quello che riguarda la azionale nel corso delle prossime settimane, magari strumenti come questo di parcheggio potrebbero offrire un'alternativa interessante in un'ottica di investimento. Anche questo ETF di Barclays ha un andamento sostanzialmente simile, ancora una volta si tratta di corporate bond dell'area Euro, vedete ancora una volta abbiamo questa fase laterale, volatilità ridotta e prospettiva di crescita che sono date dal fatto che la tendenza di fondo sviluppatasi dai minimi dello scorso dicembre continua a essere orientata al rialzo e i prezzi sono sostanzialmente fermati sulla media 100 giorni senza portarsene al di sotto, quindi abbiamo una prospettiva di crescita, in ogni caso avete visto la volatilità anche qui è molto ridotta, siamo sempre fermi al 2-2-3%, quindi si tratta di strumenti sui quali puntare, ovviamente nel caso si pensi che la borsa possa andare in conto di una fase di ripiegamento. In ultimo guardiamo questo ETF relativo al mercato dell'oro, il riferimento è l'oro fisico, nella ultima seduta quella del 3 gennaio le quotazioni hanno avvicinato senza però forzarlo il massimo del mese di settembre, c'è stato un rimbalzo deciso dopo un prolungato test della media mobile esponenziale a 100 sedute, la tendenza di fondo anche in questo caso è orientata al rialzo da più di un anno, non sembra che ci sia il rischio di vederla messa in discussione, la flessione che abbiamo visto con i minimi di dicembre infatti sia limitata anche in questo caso ad un ritracciamento assolutamente sopportabile per quello che riguarda la struttura precedente, infatti addirittura siamo fermati solo sul 23,6% di tracement, quindi niente di preoccupante per la tenuta dell'up trend, ovviamente però fino a che saremo di sotto di area 137, quindi dai massimi di settembre bisognerà essere prudenti perché c'è sempre il rischio che questa resistenza non venga superata, oltre a quei livelli invece avremo un bel segnale di forza che potrebbe permetterci di andare a raggiungere dei livelli anche ben superiori ai 137 punti. Direi che facendo un'ipotesi con le onde di ieri, immaginando che questo primo rialzo che c'è stato tra settembre e la prima parte del 2019, tra settembre 2018 e la prima parte del 2019 sia stato appunto un primo elemento impulsivo, abbiamo la possibilità di immaginare un target almeno in area 142, ma successivamente potremmo estendere anche oltre quei livelli fino ai 152-153 punti. Spero che questa carrellata possa esservi utile per affrontare le incognite di questa prima parte del 2020 e vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook trovate sempre le informazioni relative a tutte le cose che vi ho detto con aggiornamenti quotidiani, così anche come sul sito di FT online dove potete andare a recuperare tutte le informazioni relative agli ETF di cui abbiamo parlato oggi. Vi do appuntamento quindi con il nostro prossimo video nelle prossime sedute.